Dal 2 all'8 maggio la città di Macerata ospiterà l'iniziativa Macerata Racconta in Marche Libri, promossi ancora una volta dall'Associazione Contesto. Sì, dal 2 all'8 maggio c'è questo straordinario evento cresciuto in maniera esponenziale e cresciuto con la nuova storia dell'amministrazione Carancini dal 2010. È un evento importante perché porta a Macerata i più grandi autori di libri attuali, verranno presentate in tantissime occasioni, in tantissimi eventi in città, nei vari luoghi della città appunto gli autori e naturalmente i contenuti. Il tema che quest'anno l'Associazione Contesto ha scelto è gli inganni e quindi ci sarà questo filo rosso che attraverserà tutti gli eventi. C'è la fiera dell'editoria marchigiana che è un altro pezzo di questo progetto importante che oggi ci fa essere considerati una delle 70 città del libro. E direi con budget così piccoli davvero è una soddisfazione poter avere l'adesione dei più bravi e più letti autori italiani. È una settimana impegnativa ed è un progetto impegnativo sul quale peraltro l'amministrazione comunale ha giocato fin dall'inizio. Volevamo questo evento sul libro, crediamo che il libro sia un valore assoluto e vogliamo farlo crescere. Oggi certamente Macerata Racconta è uno dei festival italiani più importanti dedicati al libro. E quindi anche qui ci piacerebbe che nei vari appuntamenti arrivassero persone e possano condividere questa ricchezza che il territorio riesce a trattenere.